Apertura scuola a scaglioni nel Vallo di Diano come in tutta la campagna. A poche ore dall'inizio ufficiale del nuovo anno scolastico 2020-2021 continuano ad arrivare ordinanze che rinviano il suono della campanella. A Sant'Arsenio è di poche ore fa l'atto a firma del primo cittadino che annuncia il rinvio dell'inizio delle elezioni al prossimo primo ottobre per la sola scuola secondaria di primo grado. Si tratta della scuola che è stata oggetto di polemiche in quest'estate tormentata dai dubbi sulla ripresa post-covid con la richiesta da parte del comune di San Pietro Altanagro di potersi vedere attribuito una sede distaccata di cui era pronto l'ente comunale a farsi carico. Richiesta rimasta inascoltata. I genitori di alcuni alunni erano quindi pronti ad iscrivere i propri figli a Teggiano vista l'apertura ad un'eventuale istituzione di sede distaccata. La mancata assegnazione da parte dell'ufficio scolastico regionale di nuovo personale ha portato anche a negare l'autorizzazione lasciando quindi San Pietro Altanagro privo dell'ambita sede distaccata nonostante la necessità di garantire spazi ampi e rispetto di rigidi protocolli per la sicurezza degli alunni in tema di anticontagio. Ora però la scuola media di Sant'Arsenio deve fare i conti con l'adeguamento della struttura alla normativa anti-covid. Una necessità che sta quindi portando a ritardi nell'organizzazione tanto da spingere il primo cittadino su richiesta della dirigente scolastica Vairo a disporre un rinvio dell'inizio dell'attività scolastica in presenza con nuova data fissata al primo ottobre. Invariata invece la data di inizio delle elezioni per le scuole elementari con i bambini di San Pietro Altanagro e Sant'Arsenio che torneranno regolarmente in classe domani 24 settembre. Un inizio scuola frammentato in tutto il Vallo di Diano con diversi istituti scolastici che hanno richiesto ai sindaci di rinviare l'apertura della scuola per l'impossibilità di riuscire a reperire tutto il materiale necessario per garantire la sicurezza di alunni e personali in materia di anticontagio così come è risultato difficile riuscire a predisporre tutti gli spazi per ridurre al massimo i rischi di contagio da covid. Resta confermata la partenza per domani in diversi comuni ma sono anche tanti che hanno scelto di rinviare tutto a lunedì prossimo 28 settembre per poter usufruire di altri giorni utili a predisporre tutto secondo i regolamenti e protocolli imposti.